Benvenuti. Benvenuti al punto, la trasmissione che approfondisce temi amministrativi, politici dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Lo facciamo come sempre con due ospiti che andiamo a conoscere per questa puntata. Paolo Brutti, presidente della commissione antimafia e tossicodipendenza dell'Italia dei Valori e Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia. Buonasera. Partiamo dalla visita a Palazzo Cesaroni nello scorso fine settimana per un incontro pubblico su legalità e riforma della giustizia di Nicola Gratteri, magistrato della direzione distrettuale antimafia e presidente della commissione parlamentare riforma normativa antimafia. per tornare su un tema particolarmente approfondito proprio dalla commissione che Brutti presiede ma che è un tema sul quale spesso tutte le forze politiche sono intervenute. Allora, Gratteri ha fatto dei passaggi molto importanti, Brutti. Acquisire un'etica anticorruzione è essenziale per uscire fuori da questo fenomeno mafioso. E poi lui dice anche per combattere il fenomeno mafioso sono necessarie strategie a breve termine che spetta la politica, il Parlamento mettere in campo e ha assicurato che nella commissione che presiede si sta dando corso una sorta di rivoluzione normativa puntando su una maggiore efficacia nel contrasto che passa sull'informatizzazione delle procedure, la semplificazione, le garanzie, gli incrementi di pena, lui dice, per associazione mafiosa da 5 a 20 anni. Entro un mese comunque dovrebbero essere pronti i primi articoli della nuova normativa antimafia. E tra i vari passaggi è venuto fuori un'altra considerazione che nessun territorio, non solo quelli del sud, nessun territorio neanche del centro e del nord è immune dalle infiltrazioni di questo tipo di fenomeno. Ecco, io proprio mi baso su questo perché la relazione che ha portato poi in aula la commissione che lei presiede tirava proprio queste conclusioni, no? Quindi diciamo che gli ottimisti che sono in Umbria in un certo qual modo, voglio dire, sono un po', si non può preoccupare ecco anche da quello che dice Gratteri, che pensa? Ma penso che ecco sì, il tempo dell'Umbria-Isola Felice, se mai c'è stato, insomma, è tramontato da diverso tempo, insomma, è passato. Adesso ci troviamo in una situazione in cui un territorio sostanzialmente privo di anticorpi, perché poi questa è la vera pericolosità, un territorio in cui si pensa ancora che tutto quanto funzioni bene e ci sia un'onestà diffusa, in realtà è un territorio nel quale diciamo le infiltrazioni sono più facili. Ecco, questo è perché tu non hai, se tu hai un problema nella tua azienda e ti si presenta l'uomo vestito bene con la valigetta dei soldi, tu non è che immediatamente capisci che questo è un camorrista o è uno dell'andrangheta, pensi che tutto sommato sia un'azienda che viene a rilevare parte del tuo patrimonio e invece, invece, non scattano quindi dei quei meccanismi che altrove scattano e questo ha fatto sì che nel silenzio generale e anche in una sorta, diciamo così, di trascuratezza, di dimenticanza anche delle pubbliche amministrazioni e anche delle forze dell'ordine, perché mi viene a dire anche questo, sia e ci si sia abbandonati all'idea che tutto sommato qua stavamo in un posto in cui non c'erano questi rischi, erano in altri territori, altrove, insomma, qui non c'era niente, qui le cose funzionavano. Adesso, noi l'abbiamo detto, Gratteri l'ha detto con una voce più robusta della nostra, naturalmente, adesso speriamo che ci siano le reazioni e i comportamenti coerenti da parte delle amministrazioni e delle forze dell'ordine per superare questo stato di cose che a mio giudizio è molto, molto preoccupato. Ecco, tra i vari passaggi di questo convegno, il sottosegretario all'interno, i bocci, metteva in evidenza proprio questo problema, però al contempo, diceva del grande lavoro delle forze dell'ordine, stanno comunque monitorando in maniera estremamente efficace il territorio. Nevi, a differenza di Brutti, Brutti vive a Perugia, la città, voglio dire, spesso sulle prime pagine dei giornali per questi fatti di cronaca legati soprattutto alle tossicodipendenze, allo spaccio di sostanze superfacenti, eccetera. Lei vive a Terni, forse questo problema lo sento un po' meno, però chiaramente lei essendo capogruppo del partito, diciamo più grande dell'opposizione, ha seguito questi temi in maniera particolare. Sì, poi tra l'altro a Terni pure ci sono state le operazioni molto importanti, l'ultima delle quali che ha messo in evidenza una realtà dove addirittura c'erano delle infiltrazioni molto pesanti e gestivano delle strutture sanitarie dove tanti ternari andavano tranquillamente a curarsi i denti, quindi il problema è un problema che sta venendo fuori, io penso che sia stato un bene costruire la Commissione in Consiglio regionale proprio perché è un problema che va affrontato con tutti gli strumenti normativi e anche non normativi, insomma Gratteri lo diceva, anche la politica ha bisogno di capire bene questo fenomeno e di costruirsi quegli anticorpi a cui faceva riferimento brutti che sono necessari per fare in modo che questa non diventi una regione in cui la malavita organizzata può porre delle basi importanti. Già c'è questo fenomeno perché qui tutto sommato c'era un'attenzione in minore rispetto ad altre zone d'Italia e quindi questa è la dimostrazione che appunto bisogna essere molto attenti e bisogna costruire delle politiche più mirate a prevenire fenomeni di ulteriore aggravamento di questo problema. Parliamo ancora di questo argomento ricominciandolo più da lei Nevi, sempre Gratteri ma è stato un po' a voce comune, questa sembra un'indicazione che arrivi un po' a tutta la politica, quella di cominciare con la prevenzione chiaramente nelle famiglie ma soprattutto nella scuola, ecco la scuola che diventa un ambito importante per far capire ai giovani e anche ai ragazzini più piccoli insomma qual è il bene e qual è il male. Certo, questo è molto importante, ha già dato dei risultati molto importanti nelle zone più a rischio, penso alla Sicilia dove appunto questo fenomeno antipizzo è stato sostanzialmente alimentato dagli studenti, dai giovani insomma in generale. Ecco io penso che anche qui dobbiamo fare altrettanto anche per far nascere nei giovani una cultura della legalità e dare ai giovani una informazione quindi anche una formazione per fare in modo che questi fenomeni non prendano sempre più piedi anche agevolati dalla crisi economica che colpisce e che quindi può essere quella una scorciatoia, un lomino con la valigetta che diceva Brutti, una scorciatoia che per qualcuno che magari viene rifiutato dalle banche, che viene estromesso dal circuito istituzionale può essere a breve una soluzione che poi a lungo termine si dimostra invece un disastro per lui e per il territorio. Quindi benvenga questa educazione nelle scuole, no Brutti? Nelle scuole noi dovremmo far passare un messaggio, quello che il giovane insomma che si avvicina al consumo di stupefacenti magari per gioco, magari per un po' di sballo come si dice, cosa questa diffusissima nella nostra regione, nella città di Perugia, beh quel giovane bisogna fargli capire che lui, consapevole e inconsapevole, è il terminale dell'acquisizione di risorse patrimoniali da parte della mafia. In qualche modo lui sta lavorando per la mafia. Troga uguale mafia è una cosa sulla quale noi dovremmo batterci, insistere molto, battere su questo con i giovani perché io ho visto per esempio, c'è stato recentemente un'iniziativa molto bella, tutte le scuole hanno partecipato alla realizzazione di uno spettacolo, ognuno portava il suo contributo alla sua parte contro la droga e poi magari con gli stessi ragazzi lo spinello. Bisogna battere su questo punto, bisogna battere perché l'approvvigionamento di risorse da parte della della criminalità organizzata con lo spazio di stupefacenti è proprio l'elemento che oggi caratterizza l'azione della mafia. Oggi la mafia è la mafia della droga e quindi su questo bisogna insistere. Allora, torniamo a temi che riguardano la vostra attività all'interno dell'Assemblea legislativa, dell'Umbria, parleremo in conclusione di trasmissione anche della legge elettorale che seppur magari ai cittadini non è che interessi più di tanto, però è un argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea. Si sta cominciando invece a parlare in diversi ambiti e nei più alti livelli istituzionali del futuro delle regioni così come sono strutturate oggi. Voi cosa pensate quando andrà a finire? Come le province, Nevi? Speriamo di no, come le province sarebbe veramente una fine ingloriosa, invece io penso che ci sia lo spazio per una riorganizzazione delle regioni perché indubbiamente avere una regione come l'Umbria di neanche un milione di abitanti e avere regioni come la Lombardia di 10 milioni di abitanti è una cosa che mette i territori in una situazione completamente diversa e per quanto ci riguarda in grande difficoltà perché è evidente che il peso che ha un presidente di una regione che rappresenta 10 milioni di abitanti e uno che rappresenta un milione è enormemente diverso. quindi io penso poi tra l'altro questo porterebbe a una riorganizzazione, un efficientamento forse della struttura organizzativa. Questo non sempre è una cosa che è automatica insomma, però non c'è dubbio che alla fine c'è una massa critica di risorse per gestire gli apparati che va utilizzata comunque sia se hai 10 milioni di abitanti sia se ne hai uno. Infatti non a caso nei parametri che spesso ci troviamo ad approfondire c'è un peso della spesa della pubblica amministrazione che in Lombardia è molto inferiore a quello dell'Umbria. Non solo perché in Umbria si è gestito un po' allegramente in passato ma anche proprio perché alla fine è evidente che un servizio lo deve gestire in Umbria come in Lombardia e quindi qui il costo di quel servizio stante appunto la quantità di persone raggiunte è superiore. Quindi io penso che se ci fosse questo sarebbe una cosa positiva fare adesso 7, 8, 10 regioni omogenee dal punto di vista della popolazione e anche certamente del territorio potrebbe non essere una cosa sbagliata. Lombia con la Toscana immaginiamo? Con la Toscana, con le Marche, con Lazio adesso diciamo si tratta di vederla bene ma insomma dipende poi dal numero di regioni che si studieranno ma insomma io vedo che questo però l'argomento sta cominciando a venire fuori. Assolutamente sì, oggi anche diversi quotidiani nazionali riportano queste indicazioni che cominciano arrivare anche a livello governativo. Brutti? Sì, io la penso un po' come Nevi, anzi forse accento un po' un elemento, cioè quello diciamo così del fallimento dell'esperienza regionale. Oramai questo è sotto gli occhi di tutti, le regioni hanno fallito. In parte questo è derivato dal titolo quinto famoso che ha complicato enormemente le cose e non ha fatto chiarezza sui relativi ruoli, ha diciamo moltiplicato le contraddizioni e ha creato 22 principati ciascuno dei quali ha una propria legislazione interna. Quindi da questo punto di vista quel titolo quinto è stato veramente una cosa, una tragedia per le regioni. Però poi le regioni ci hanno messo del loro, ecco non sarebbe sarebbe sbagliato dire che tutto quanto deriva da quello. Le regioni ci hanno messo del loro, ampliando enormemente gli apparati diciamo così gestionali rispetto a quelli legislativi. Allora a questo punto io capisco, Nevi potrebbe dirmi se noi facciamo meno regioni abbiamo delle dimensioni tali che consentono lì la sussistenza di apparati legislativi importanti. È vero ma forse anche c'è da dire che visto che le regioni hanno imboccato questa strada, la strada cioè di essere dei gestori di attività sul territorio e lo facciano fino in fondo, diventano delle grosse province in sostanza non moltiplicando gli elementi legislativi. Io per esempio con Nevi recentemente siamo dentro la commissione in cui stiamo insieme abbiamo avuto un esempio chiaro, si parlava di assetto del territorio. Allora a un certo punto dice dobbiamo fare un foro dentro una falda acquifera, fino alla prima falda bisogna chiedere il permesso alla comunità montana, se si va alla seconda falda bisogna chiedere il permesso all'associazione dei comuni. Nevi ha detto ma davvero le cose stanno così? E la mia domanda all'assessore è stata ma scusa ma in Toscana come è messa la questione? In Toscana è diverso, nelle marche ancora diverse, ma ha un senso su una materia oggettiva. Uniformare le normative ma diminuire l'elemento legislativo. Il tempo purtroppo ci scappa via di mano, io volevo parlare, lo faremo, dell'avvertenza AST chiaramente uno degli argomenti più importanti, questo sul serio insomma, di questo momento. Però dato che parlavamo di questi argomenti adesso, io ci metto anche la semplificazione amministrativa, che è stato uno dei punti principali di questa legislatura, che ha portato poi ai testi unici, che partono all'urbanistica, al turismo, adesso si sta discutendo quello dell'agricoltura, fatto quello del commercio eccetera. Soddisfatti di quanto fatto, Nevi, per quanto riguarda proprio questo tema della semplificazione? Guarda, su questo tema della semplificazione ci sono due questioni, una è legislativa, diciamo, e lì abbiamo fatto una legge che è buona, diciamo, noi stessi avevamo anni indietro proposto la stessa legge, ci hanno come al solito messo un po' di anni, ma alla fine la legge c'è stata. Il problema della semplificazione è che non basta la legge, cioè la cosa fondamentale della semplificazione è che alla legge sia data attuazione e quindi siano riorganizzati tutti gli uffici, sia riorganizzato il meccanismo gestionale della burocrazia e orientata a dare un servizio migliore al cittadino che quotidianamente si rega nei nostri uffici. Ecco, noi diciamo sempre che questo è mancato perché il cittadino che si rega presso la pubblica amministrazione incontra sempre gli stessi problemi e purtroppo non si risolvono. Spesso addirittura fatta la legge vengono date delle interpretazioni dagli uffici che riportano indietro il processo a come avveniva, diciamo, prima della legge di semplificazione. Questo perché? Perché c'è una resistenza, c'è una negligenza, a nostro avviso, degli assessorati che devono fare in modo che si si riorganizzi e che quei principi contenuti nella legge che semplifichano, che danno risposte in tempi rapidi, che cercano di facilitare l'accesso, vengano veramente attuati. Ecco, su questo invece secondo noi c'è moltissimo da fare. Brutti? Ma io penso che soprattutto per quello che riguarda la dimensione territoriale, cioè gli enti endoregionali, diciamo così, purtroppo si sono spese molte parole ma fatti non se ne vedono perché le comunità montane dobbiamo scioglierle ma ci sono ancora, i consorsi di bonifica dovevamo scioglierle ma ci sono ancora, le associazioni comuni dovevamo farle, non si sono fatte. Nel frattempo le province sono state sciolte ma ci sono ancora, adesso ci porterà l'assessore Paparelli probabilmente in discussione adesso una nuova legge, un nuovo intervento per vedere che cosa facciamo dalle province quando avremmo dovuto già avere le strutture di area vasta. Insomma, dire che su questo si è operato bene, io capisco che la materia è complessa come dice Nevi e quindi bisogna prenderla con le molle, però insomma non si può neanche dire che su questo abbiamo fatto dei passi in avanti ed è questa una prova che la moltiplicazione delle strutture regionali e delle strutture endoregionali determina una situazione di invivibilità nell'amministrazione e nella burocrazia. La burocrazia domina dove le strutture sono irrazionali, dove le strutture esistono solo perché oramai c'è il personale e dobbiamo tenere lì in piedi, ecco questo è una cosa sulla quale bisognerà metterci male. Allora, parliamo della vertenza AST-TSN-Crupp, è un momento particolarmente difficile per Terni ma io direi per l'Umbria, per tutto un settore che riguarda le acciaierie anche a livello nazionale, però insomma per l'Umbria questa è una bomba davvero pericolosissima, non Nevi, perché ci sono oltre 500 famiglie che stanno lì col fiato sospeso, c'è un futuro di un simbolo dell'industrializzazione di questa regione, come andrà a finire secondo lei? Ma come andrà a finire non lo so, io so solo che se qui non c'è un impegno di tutt'altro tipo rispetto a quello che c'è stato oggi del Governo nazionale, la situazione va a finire male, ma male dico anche dal punto di vista del clima sociale perché insomma ci sono grandissime tensioni che potrebbero sfociare in problemi molto più seri, devo dare atto, anzi approfitto per farlo pubblicamente, ai lavoratori della compostezza con cui fino ad oggi è stata gestita questa delicatissima situazione, anche in presenza di un amministratore delicato, donna, dalle donne ci si aspetterebbe anche un atteggiamento un pochino più attento e più delicato e invece c'è un atteggiamento veramente di sfida, l'altra sera questa visita ai Cancelli dicendo cose che poi appunto sono palesemente in contrasto con quello che viene sostenuto nel tavolo nazionale per mettere zizzania, per cercare di... ecco questa situazione, adesso ieri c'è stata questa opportuna visita al Presidente del Consiglio Renzi, c'era una battuta dice se no Maometto non va alla montagna, perché appunto Renzi aveva annunciato nella sua diciamo foca così twittare tutto di interessarsene e invece così non è stato, devo dire che il Ministro Guidi ha cercato, ma insomma quello che conta non è provarci, è riuscire a trovare una soluzione che sia la più condivisa possibile, fermo restando che nessuno disconosce che l'azienda abbia alcune questioni da risolvere e che assolutamente... Quindi secondo lei il punto di caduta per trovare la soluzione qual è Nevi? Il punto di caduta è trovare, fare in modo che ci sia un sistema paese che assicuri all'azienda alcuni fattori della competitività al tempo stesso che l'azienda ci indichi come continua a sviluppare l'azienda stessa e come continuerà a produrre acciaio di qualità, insomma ecco non vorremmo che dietro problemi reali si scelasse la volontà che invece quella di uscire è con un'azienda che insomma è mal ridotta. Brutti, nella lunga carriera politica che lei ha avuto, che tuttora sta avendo, insomma c'è anche quella del sindacato, no? Questa è una situazione in cui il sindacato, la voce del sindacato sinceramente quanto può valere Brutti nel cercare la soluzione finale? Io penso che dovrebbe essere il sindacato a trovare la soluzione, certo quando i lavoratori della Terni, il giorno in cui c'è la manifestazione in piazza San Giovanni, vanno da Renzi alla Leopolda, a me questo mi dà l'idea di una cosa un po' strana, perché non vorrei, ecco questo è il punto, non vorrei che si pensasse ad una soluzione tipo assistenziale, questo la troverei sbagliata e oppure peggio, e quindi io invito tutti quanti a buttare acqua sul fuoco se possibile, io la penso un po' così, su questa vicenda Nevi lo sa, sono tra quelli che pensano che bisogna fare la trattativa con la Tissen, non bisogna fare la trattativa con un altro, sperandoci che la Tissen se ne vada e arrivi qualcun altro, perché questa cosa porterà a un disastro, perché maneggiare questi esplosivi con lo scopo non di fare una trattativa, ma di mandare via il proprietario e sostituirlo con un altro, è una cosa di una pericolosità assoluta, io spero che nessuno ci stia pensando, ho dei segni che mi dicono che qualcuno ci sta pensando e quindi dico a questi che hanno questa idea in mente, state attenti perché potrebbe succedere un disastro, bisogna fare la trattativa, farla con la Tissen, portare la Tissen a un piano ragionevole, ma che ci siano dei problemi dentro la Terni, a me o l'amministratrice delegata, lo sappiamo anche noi. Allora, quattro minuti e mezzo per parlare, ma non solo, se riusciremo a ritagliare un minuto ci sarà un'altra domanda, legge elettorale regionale, mi pare il testo su cui si stia discutendo è quello di un turno unico, unico collegio, due preferenze, preferenza di genere e via il listino, adesso non so se la sintesi. No, 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 è una notizia. No, no, quello che viene fuori dalle riunioni che avete fatto in conferenze stampa. No, no, vabbè, insomma, io questo lo dico. No, no, ma non è una base, noi testi non li abbiamo visti. No, no, in commissione è stata presentata una proposta, è stata presentata una proposta. Niente di scritto. Io mi baso sulle parole che leggo e che vengono fuori. La prima proposta di legge orale. Ecco appunto, io mi baso su quella, poi sta a voi decidere su quale testo dovete lavorare. Adesso siamo ufficio stampo, anche dalle parole facciamo comunicati, eccetera. Per cui, al di là di tutto, insomma, qual è secondo voi la legge elettorale ottimale in fatto di rappresentanza dei territori e quindi anche delle forze politiche? Nevi? Ma innanzitutto la legge elettorale, diciamo, sostanzialmente ce la impone la Corte Costituzionale, che dice che, cioè, perché la legge elettorale va rifatta? Perché c'è stata nel mezzo di questi anni una sentenza della Corte Costituzionale che riguarda, per carità, la legge nazionale, ma è un principio generale che quindi riguarda tutte le leggi che ci ha detto che il premio di maggioranza deve essere, diciamo così, commisurato ai voti che prendi. Non ci può essere la cosiddetta legge truffa, cioè prendo pochi voti per molti seggi. E qui invece mi pare che il centrosinistra voglia continuare a operare questo meccanismo che loro pensano gli convenga dal punto di vista elettorale perché sono stati scioccati dalla vittoria del centrodestra a Perugia e pensano che non sia un problema politico, ma pensano che sia un problema tecnico. Siccome c'è il doppio turno abbiamo perso, col turno unico non avremmo perso. Non è proprio così, anzi, lì il problema è che se ci fosse stato un turno unico si sarebbe perso ugualmente probabilmente, siccome c'erano due turni è andata in quel modo. Allora, il tema però del doppio turno non va affrontato, se mi conviene oppure no, il tema del doppio turno è un tema che si impone attuando la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi io penso, noi abbiamo fatto questa proposta dicendo tra l'altro di far scattare il secondo turno se nessuna delle forze politiche superasse il 40%, il centrosinistra o parte di esso o parte del PD, non ho ancora capito bene, insomma non mi pare che sia molto unito e coeso su questo come su altre questioni e quindi siamo sostanzialmente un po' in stallo, nel senso che non c'è stato un testo di legge presentato. Quindi lei comunque è per il doppio turno. Quelle poche cose che lei diceva sono venute fuori dalla conferenza stampa, dalla chiacchierata che fa seguire la conferenza stampa e in commissione mi pare che abbiano avuto un dissenso unanime invece che un consenso unanime. Se poi una parte del PD pensa che si possa fare la legge elettorale con un voto in più, vabbè, ho capito. Sì, questo anche io la penso un po' come Nevi su questo perché la legge elettorale bisogna farla con un consenso largo, lo sta dimostrando il Parlamento italiano, Renzi che discute con Berlusconi della legge elettorale, insomma nessuno pensa di farsela nel suo partito, anzi dentro un pezzo del proprio partito. Perché non è, voglio correggere Nevi, non è il centrosinistra, è il PD, una parte del PD che ha fatto questa proposta. Sul doppio turno io sono d'accordo con lui e sono d'accordo con lui, sono d'accordo con la Corte Costituzionale che vuole, dice, se vuoi attribuire un premio devi fissare un'asticella, sopra l'asticella si dà il premio e sotto si fa il doppio turno, questo dice la Corte Costituzionale, bisogna farlo anche noi. Poi dopo dentro per l'attribuzione dei seggi all'interno della coalizione che vince, all'interno della coalizione che perde, bisogna usare un sistema puramente proporzionale, nessuno può avere un ulteriore vantaggio per avere poi da solo la maggioranza del Consiglio regionale. Questi sono i due punti sui quali stiamo discutendo in modo forte. Allora, parliamo in pochissimi secondi, Nevi farà parte della prossima contesa? Ah, non lo so, questo lo decideremo nel momento in cui si faranno le liste, quindi sulla base del programma e sulla base del candidato presidente, poi si deciderà se continuare questa esperienza oppure lasciare spazio a qualche di un altro. Beh, non giovane, perché lei è giovane, quindi non può dire cos'è. No, adesso sono giovane, c'è chi parte dall'età anagrafica, chi parte dalla permanenza nelle istituzioni, quindi io da quel punto di vista sono un po' vecchio. Brutti, lei è... Io invece al contrario suo sono giovane, però non lo sappiamo, francamente non lo sappiamo, molto dipenderà anche dalla legge elettorale che verrà fuori, perché se la legge elettorale aprirà degli spazi qualcuno ci si infilerà dentro, se non li aprirà io penso che nessuno vorrà correre soltanto per il piacere di correre. Grazie per essere stati in studio con noi, a Paolo Brutti, presidente della Commissione Antimafia e Tossico Dipendenza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria dell'Italia dei Valori e alla capogruppo di Forza Italia Raffaele Nevi. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana e arrivederci a tutti.